Buonasera e bentrovati a questo appuntamento che coincide con la riapertura di piazza affari dopo le festività. In una giornata, chi ha visto volumi di scambio piuttosto bassi a vincere è l'incertezza. Uno dei fattori oltre al clima post natalizio è stata l'assenza di dati macro di rilievo. Questa timidezza sul mercato la si vede anche sul grafico del Fuzzimib se si considera che i massimi di giornata toccati poco prima delle ore 15 corrispondono in realtà ad un progresso quantificabile in solo mezzo punto percentuale circa. Chiusura inferiore al mezzo punto percentuale di risalita anche per il DAX che nel pomeriggio ritraccia dal doppio massimo che vedete a fianco. L'apertura a Wall Street è ancora più piatta in attesa degli indici della Fed di Richmond sulla manifattura e sui servizi. Il Nasdaq infatti al momento è praticamente neutro mentre il Dow Jones sale solamente dello 0,20%. Tornando a Milano, gli acquisti premiano Saipem più di 83% che recupera brillantemente dalle sedute precedenti sfiorando 1,5 punti quotazione del 6 dicembre. Nello stesso settore Eni si aggiudica la quinta piazza ad un soffio dal punto di progresso. Eni Progetti è coinvolta in creazioni di diversi robot per il monitoraggio ambientale. Questo è in perfetta sintonia con l'ultimo report di Comar secondo cui il settore energetico ha trainato per l'85% il fatturato italiano e risulta in continua espansione. Del comparto bancario Monte dei Paschi più 1,56 e Fineco più 1,08 si aggiudicano un posto tra i migliori. Analogo risultato per Iveco. Ribassi sul comparto Utilities che occupano interamente la classifica dei peggiori. Tuttavia i cali non superano il punto percentuale. Troviamo ERA poco sopra questa soglia, Terna, Italgas, A2A e Snam a ridosso del mezzo punto di flessione. Il comparto valutario vede un euro piuttosto tonico nei confronti del dollaro. Il cambio infatti è salito sopra quota 1,11 da cui mancava dallo scorso luglio. Discreto anche il rialzo del cross euro-yen, cambio che ora è in area 157,80. Continuando dunque nel suo trend rialzista iniziato venerdì scorso. Ieri il mercato valutario è rimasto regolarmente aperto. A rimanere prossimo ai valori di ieri è invece Eurosterlina, anche se i massimi toccati oggi sono quelli di oltre un mese. L'edizione odierna si chiude qui, non mi rimane che ringraziarvi per la visione e rinnovarvi l'appuntamento a domani. Buona serata!